è serata di grandissima festa qui alla farm come ben sapete tutti quanti finalmente i locali che erano stati sottoposti a sequestro sono stati dissequestrati e proprio per questo motivo Andrea Bartoli e Florinda Saieva hanno invitato tutti coloro che hanno simpatizzato con la loro situazione con l'emergenza farm a partecipare questa sera dalle ore 22 a una grande festa proprio qui nei locali della farm avremo modo noi con grande piacere di guidarvi se riusciamo con delle interviste altrimenti a farvi vedere attraverso le immagini che a volte valgono anche più delle parole tutto quello che adesso c'è in questo momento alla farm quindi grande divertimento voglia di nuovo di riappropriarsi di quello che è effettivamente un bene dell'intera collettività non solo favarese ma di tutti gli amanti dell'arte in generale adesso riusciamo ad addendrarci dentro la farm e vediamo se riusciamo a fare qualche intervista. Siamo qui con Florinda Saieva per i festeggiamenti della farm di sequestro delle due strutture che finalmente sono ritornate ad essere fruibili all'intera cittadinanza favarese e non solo quindi Florinda grande festa questa sera qui alla farm per poter di nuovo avere completamente a disposizione tutta la struttura farm tutta la farm. Sì assolutamente sì siamo felici peraltro di vedere come tanti amici sono venuti a trovarci e comunque ci hanno sostenuto da tutta Italia per questa buona causa. E questa è una cosa positiva perché vuol dire che nonostante la burocrazia abbia delle sue dinamiche dei suoi percorsi però probabilmente l'arte ha bisogno di essere tutelata in maniera differente no? Diciamo che ogni tanto il buonsenso viene fuori anche al di là di ogni norma di ogni cavillo normativo diciamo. Questo è fondamentale ma la cosa ancora che rende questa festa ancora più grandiosa è il fatto che proprio ieri nella giornata di Ferragosto avete ricevuto la notifica del dissequestro delle due strutture. Secondo me questo è stato un segnale molto importante di chi ha voluto bene anche farm perché comunque Ferragosto è un giorno particolare arrivano tanti turisti e dare un'immagine così quasi di una farm ferita non è bello per il turista che arriva quindi ringraziamo chi ha avuto e ha emesso questo provvedimento il giorno di Ferragosto regalando anche questo scorcio d'estate a tutti i nostri visitatori. Ed effettivamente quando la burocrazia a volte si perde in cavilli e in lentezze in questo caso invece è agito con una notevole celerità. Vi aspettiamo a festeggiare sempre con noi. Assolutamente sì grazie ancora Florinda e anche al marito Andrea Bartoli per averci concesso quest'intervista grazie. Nel frattempo ci siamo proprio addendrate all'interno della farm per seguire più da vicino i festeggiamenti che oggi il 16 di agosto stanno coinvolgendo tutte le persone qui presenti. Come potete notare musica ad altissimo volume, tante persone, un antirivieni continuo e costante non soltanto di favoresi ma soprattutto e tutti coloro che hanno voluto appoggiare e perpetrare con i loro mezzi la causa farm. Quindi adesso vi guideremo all'interno della farm e vi faremo vedere tutto tutto quello che sta succedendo. Seguiteci! Siamo qui insieme a signor Vincenzo che oggi in questa serata oltre che a godere di questo meraviglioso fresco che oggi sta graziando un po' tutti vuole testimonia con la sua presenza il fatto che la farm finalmente è ritornata fruibile in tutte le sue sfaccettature e quindi signor Vincenzo cosa pensa del fatto che comunque finalmente i sigilli sono stati tolti e quindi tutta questa burocrazia che aveva sottoposto sotto sequestro due strutture della farm? Finalmente la farm è ritornata ai favoresi. I favoresi ci meritiamo questo, non ci meritiamo i burocrati che cercano sempre di mettere il bastone tra i piedi a chi voglia di lavorare. Noi siamo favoresi e dobbiamo a Favara e chi ha fatto tutto questo ringraziarlo, solo ringraziarlo e basta. Perché finalmente dobbiamo anche essere sinceri, a Favara si respira un'area differente, l'area del turismo che probabilmente in altre circostanze, molti anni fa, era un progetto totalmente inarrivabile ed era difficile associare Favara al turismo, è vero? Sicuramente, i Sette Cortili non li conosceva nessuno, i Sette Cortili era uno stato di abbandono oggi è un punto turistico dove tante persone dall'Interland e da fuori vengono qui per venire a visitare e a Favara vedere, qualche mese fa, vedere tanti giapponesi a Favara è una cosa assurda è diventata qualcosa di veramente bellissimo e noi favoresi ne siamo fieri. Ecco, con queste meravigliose parole di stima nei confronti di Andrea Bartoli e di Florinda Saieva noi ringraziamo il signor Vincenzo, le auguriamo di continuare la sua serata qui in allegria e in spensieratezza, grazie mille. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di esprimere il mio pensiero. Grazie. Questa che vedete alle mie spalle è una delle due strutture che era stata sottoposta a sequestro ora come vedete è di nuovo libera e sgombra da quei fili bianchi e rossi e da quella scritta che appunto ne delineava e ne delimitava l'utilizzo adesso è libera, come vedete di nuovo utilizzata nel pieno delle sue energie, nelle sue sfaccettature e quindi noi siamo contenti di potervi documentare anche attraverso il video che ormai questa struttura presente qui alla farm è di nuovo libera e può essere usufruita in tutta la sua bellezza. Grazie a tutti. Io ho collaborato con la farm, si può dire sin dal primo momento in cui la farm è nata. Io da diverso tempo che cercavo una collocazione adeguata all'interno della farm e finalmente questo momento è arrivato. In pratica Spazio Medinova è la sede operativa della stessa Medinova. Perfetto, quindi anche in questo caso Medinova partecipa in maniera totale ai festeggiamenti oggi della Farm? Sicuramente, tra l'altro sia come Medinova sia come Antonio Liotta sono venuti fuori interventi misurati, mirati a far capire che questo sequestro era un sequestro sui generis molto particolare e che non aveva nessun valore legale e così il procuratore della Repubblica incaricato ha scritto proprio nella sentenza di dissequestro. Quindi diciamo il giorno del dissequestro è un giorno di festa per tutti, ma di festa nel senso buono, migliore del termine, cioè nel senso che è la cultura che deve trionfare e sulla cultura bisogna mettere in atto tutta una serie di misure che favoriscono lo sviluppo. La Farm e Cultural Park è il luogo del cambiamento permanente, è il luogo della crescita culturale che punta alla cultura e Medinova nell'ambito di questo processo è un punto forte, fermo e lo sarà in tutte le maniere. Perfetto, quindi ringraziamo anche il dottore Antonio Liotta che qui ci ha ospitati per questa intervista all'interno del nuovissimo spazio Medinova. Grazie. Sono le 23 proprio in questo momento e come potete vedere anche delle riprese che stiamo effettuando, il fermento qui alla Farm è nel pieno della sua vivacità. Abbiamo fatto numerose interviste cercando di potervi far vivere quello che sta succedendo qui in questa serata di festeggiamenti alla Farm. Ricordiamo che siamo qui proprio perché questa ieri mattina sono stati tolti i sigilli alle due strutture sottoposte a sequestro, l'equilatera e la Butterfly Home. Quindi per questo motivo abbiamo voluto documentare non soltanto a parole ma anche con i video, che qui abbiamo il nostro Stefano che sta riprendendo, tutto quello che sta succedendo da ieri fino ad oggi. Ricordiamo che proprio attraverso i social, in particolar modo attraverso Facebook, il notaio Bartoli e anche la moglie Sayeva, Florinda Sayeva, avevano invitato per questa sera, a partire dalle 22, chiunque avesse voluto a partecipare a questa serata di divertimenti e di ringraziamento anche nei confronti di chi ha sostenuto questa causa nei giorni scorsi. Ricordiamo anche che il grande polverone mediatico che si è venuto a creare aveva assortito l'effetto che invonde quello che tutti abbiamo auspicato e che poi effettivamente si è realizzato, ovvero un'accelerazione della burocrazia che spesso è dormiente e dilata i tempi e poter permettere a queste strutture di poter di nuovo essere fruibili al 100%, non soltanto dai favaresi ma dai numerosi turisti che proprio nel mese di agosto stanno popolando la nostra provincia e anche la farm. Quindi vi ringraziamo per aver guardato questo video e vi invitiamo a sostenere ancora di più il nostro giornale Favara Web e vi diamo appuntamento alle prossime riprese e ai prossimi video. Buona serata! Grazie a tutti!